parte Olaf Rivarco impegna a portale partito alla grande dalla seconda fila Ron Howard e così al comando il buon Rugantino e conduce liberamente e ora a fila indiana è partito bene anche Sandete che dietro il Rivarco 15 in piegata e si affaccia subito Sandete e il favorito 1,97 in chiusura Freeway passa dopo 400 metri di gara 34 i 400 risalgono i cavalli a largo Sandete Olaf Ron Howard SM e ora si si affronta la seconda piegata 600 in 46,7 e si fa notare a largo Rajmoor si va al completamento anche di questa curva con Sandete che amministra i birilli e completa il mezzo medio iniziale in un comodo 1,3 a largo Rajmoor a largo Rally Riga all'argo l'11 di Lord Deni si completa il primo chilometro in 18,3 non avvengono variazioni sostanziali sulla piegata si fa mezzo medio alla conclusione 15 e mezzo impiegata ed è la volta di Lord Deni anticipato da Rally si cambia musica e registro di fronte Sandete allunga 14,4 di fronte allargo Lord Deni lo stacano vistia e come incisiva Lord Deni i cavalli affrontano la curva finale si va al miglio 2,1 e 2 commovente questo Lord Deni sta passando passa Sandete l'omino in fuga Lord Deni allunga prende vantaggio e che guidata che corsa commovente e commovente Lord Deni viene via bene Rally Riga e anche Olaf Lord Deni per proprio conto Rally Riga è secondo e terzo è Sandete uno 15,7 da tarare dava 20 metri veramente commovente questo Lord Deni commovente bisogna fare i complimenti al team qual è Gopalumbo ma chiaramente Simeoli, Docet bello Lord Deni l'omino fa il resto bene anche Rally Riga al Sandete e Olaf totalizzatore 3,28 per il commovente Lord Deni a quasi la mia età e veramente dimostra di essere quasi un puledro. Fini allo studio